La consapevolezza è che quello che dicevano i dirigenti di Podemos, non stare nella comodità di parlare con chi la pensa come te, è un elemento fondamentale. Mettere assieme quelli che ci sono per andare oltre quelli che ci sono, perché penso che la maggioranza sociale italiana oggi si era d'accordo ad un processo di ripubblicizzazione dei servizi fondamentali e di una democrazia che dai luoghi di lavoro fino all'urne elettorale ti permette concretamente, realmente, materialmente, ideologicamente di scegliere liberamente quello che vuoi essere. Podemos nasce come strumento di rappresentanza politica sostanzialmente del movimento Kinseme, non è come alcuni hanno descritto la prosecuzione meccanica di quell'esperienza. Ci sono stati sicuramente alcuni che del Kinseme hanno fatto parte, che hanno fatto poi parte di quel partito, però Podemos nasce come risposta politica ad una straordinaria mobilitazione sociale. Podemos in questi anni, al netto degli errori, degli scontri, è stato oggetto di una campagna mediatica, politica e anche in parte sovversiva, nel senso che da pochi anni abbiamo scoperto che c'è stato un apparato mediatico statale, parte dell'intelligence, costruito per diffamare sistematicamente il gruppo dirigente di Podemos, la cosiddetta cloacas, che hanno portato ad un deterioramento dell'immagine nell'opinione pubblica di Podemos e dello stesso gruppo dirigente. Podemos si inserisce in un'occasione politica intesa come straordinaria fase di odio verso la classe politica, quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle. Si costruisce in maniera, tenta di essere populista e trasversale, probabilmente un'altra cosa in negativo che dobbiamo imparare di Podemos è che senza un progetto culturale e organizzativo però più solido un'ottima operazione politica rischia comunque di essere fragile nel lungo periodo. Un movimento composito in parte principalmente composto da giovani, sostanzialmente giovani di classe media, traditi dalle illusioni di una promessa di sviluppo spagnolo. Ricordiamo che la Spagna veniva da una fase di sviluppo impetuoso che l'aveva vista scendere nel contesto europeo, si veniva dal boom spagnolo, trainato dalla bolla edilizia e tutta una generazione di persone super formate che vedevano come dire il loro sforzo finire in precarietà, disoccupazione e la crisi ha fatto deflagrare questo contesto e si è saldato quindi una richiesta di giustizia sociale contro la precarietà ad una richiesta di rinnovamento radicale del quadro politico contro i principali partiti, il Partito Socialista e il Partito Popolare. La composizione territoriale spagnola è particolarmente rilevante, il sistema politico spagnolo non si può comprendere se a fianco alla frattura destra e sinistra, forse repubblicana e monarchica, non mettiamo anche quella nazionale e territoriale, per cui abbiamo delle formazioni politiche territoriali che nel loro contesto sono maggioritarie o quasi. Il tema secondo me è che relazione avere con l'area dei socialdemocratici o socialisti, considerando che se si è rivoluzionari, diciamo un realismo rivoluzionario, impone anche che ti poni la questione del governo. Ed è tutto evidente che Podemos è arrivata alla sfida del governo con l'organizzazione molto indebolita, e le escissioni che dicevi tu prima sono state da una parte il frutto di scelte politiche ideologiche diverse, come Mass Madrid, per cui c'è stata una scelta da parte di alcuni diversa per un profilo di partito che voleva essere, vuole essere maggiormente populista, ma che oggi sta ritornando a parlare di un fronte unico con Giolanda Viaz. Dall'altra parte, una parte di quelli che tu hai citato e altri ancora nel tempo hanno semplicemente lasciato l'organizzazione, perché la sfida della politica in questo contesto è una sfida dura, spesso e volentieri anche umanamente costosa, le organizzazioni sono luoghi non belli, qualsiasi, in cui si incrocia lotta per l'ideale e lotta per il potere, e Podemos in questo ha faticato a costruire una comunità che fosse radicata anche sui territori. Il contesto italiano penso che si possa costruire una proposta politica alternativa, populista nella misura in cui aspira ad essere maggioritaria, partendo intanto da una proposta che tenga a sere una proposta di rinnovamento democratico. Abbiamo visto che il problema fondamentale degli attuali sistemi politici è che la gente ha deciso di non partecipare più, di non votare più, perché le post-democrazie sono democrazie in cui si può votare, ma non si può decidere che politica economica fare. Quindi è un problema di democrazia, e tutti i partiti che si sono imposti da Outsider, Podemos, Movimento 5 Stelle, avevano una proposta di radicalizzazione della democrazia, poi tradita o opportunistica, però è una risposta a come la democrazia ritorna ad essere democratica, perché altrimenti l'unico valore democratico è agitare una democrazia che non ti permette più di decidere della tua vita nei luoghi del lavoro politicamente contro lo spettro fascista. All'interno di questo contesto più generale, che vede quindi organizzazioni leggere, che spesso provano a colmare i limiti organizzativi con la democrazia online, con tutti i problemi che poi questo nel lungo periodo comporta, e una parziale inversione di tendenza c'è solo laddove sono organizzazioni che hanno un'identità territoriale forte. Come costruire un partito quando scomparse le due comunità principali, o meglio, la comunità principale che aveva segnato i partiti di sinistra che era la comunità del lavoro, la comunità organizzata. Podemos ha tentato la via della democrazia partecipata e partecipativa, emulando un po' la struttura del movimento, emulando, come dire, replicando l'ideologia della democrazia partecipativa. Io credo che in Podemos questa cosa, come dire, non ha funzionato. Uno, perché i tempi che si era dato a Podemos erano tempi, come dire, aveva una pluralità di tempi, Podemos, se alcune cose non sono conciliabili. Andare al governo nel breve periodo, quando hai, tra l'altro, numerose elezioni, e hai un livello di aggressività mediatica nei tuoi confronti straordinario, che, ripeto, bisogna mettersi in testa che quando si sfidano le elite neoliberiste, lo abbiamo visto con Corby, lo abbiamo visto con Sanders, lo abbiamo visto in Spagna, lo abbiamo visto perfino con il Movimento 5 Stelle, le ricordiamo nella fase del Decreto Dignità, la campagna contro Di Maio, quando li si sfida, loro vanno fino in fondo. Dall'altra parte c'era, come dicevi tu, la difficoltà di costruire un'organizzazione che tenesse assieme le aspettative enormi di cambiamento, un processo di politizzazione, perché spesso le aspettative di cambiamento sono radicali, ma anche confuse, e una democrazia nelle decisioni, cosa fondamentale, perché io ritengo che anche quando le decisioni sono dure, se c'è un processo democratico, sono più facili da accettare. Quindi il fallimento è stato quello della costruzione di una comunità che non è riuscita, in parte perché i tempi della scalata al governo, l'obiettivo era il blitz per andare al governo, e i tempi per la costruzione di un'organizzazione, duratura una comunità, erano inconciliabili, le forzature della prima impedivano la costruzione della seconda. dall'altra parte, ripeto, è un problema che abbia tutta la sinistra, la ricostruzione di gruppi, di organizzazioni radicate e radicali.